Quarta puntata natalizia di Natale a Grassano. Oggi siamo nella casa del CMB insieme al primo tifoso, il patrono Rocca Uletta, che salutiamo. Buonasera. E siamo venuti un po' a scoprire come i ragazzi si allenano e come stanno preparando la prossima partita. Al primo tifoso del CMB chiediamo come è andata la prima parte della stagione. Siamo al Gevole di Buva, facciamo una breve sintesi della prima parte. Fondamentalmente è andata bene, poteva andare leggermente meglio. Se non avessimo perso soprattutto la partita con il Paola, staremmo ora a parlare di primate in classifica, ma anche la stessa partita di Cefalù, persa sul filo della sirena, poteva praticamente portare sempre al primo posto. Comunque siamo fiduciosi, nel senso che la squadra sta giocando bene. Abbiamo qualche piccolo infortunato, però è fisiologico nel corso di un campionato, quindi va bene così. Abbiamo iniziato l'anno allenandoci bene per poter partire bene il giorno dell'Epifania con la prima di campionato. Contro una squadra abbastanza rognosa, il Regalbuto è una squadra rognosa e ben organizzata. Presidente, il CMB è sempre lì in alto, nelle prime posizioni della classifica. L'anno scorso i play-off sono stati raggiunti, quest'anno l'obiettivo minimo sono i play-off e si punta alla promozione. Ho rilasciato un'intervista qualche giorno fa ad Anteprima Calciacic, in cui dicevo che insomma, sì, li accetteremo senza ombre di dubbio i play-off, però da questa squadra ci aspettiamo la promozione diretta. Ci sono troppi elementi invonderabili, importuni, squalifiche, partite perse sul filo della sirena, come dicevo prima, quindi voglio dire, siamo fiduciosi però, c'è sempre un però. Infatti la squadra dall'anno scorso è cambiata quasi del tutto, nuovi innesti, qualche conferma, nuovi arrivi nella campagna di dicembre, campagna di mercato di dicembre. Sì, è ritornato Alessio, abbiamo preso Mancini, un pivot che comunque sebbene giovane ci può dare una buona mano, perché fisicamente è molto ben messo, quindi soprattutto nel nostro campo che è piccolo può dare una grossa mano. Proprio sul campo, Presidente, come Grassano reagisce al Calciacinque? In una maniera veramente spettacolare, cioè splendida, abbiamo sempre il tutto esaurito, diciamo che sono pochi posti a disposizione, mettiamola così, però bene, 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 c'è molto entusiasmo, c'è molta partecipazione, siamo riusciti in quel percorso che ci eravamo prefissi qualche anno fa di portare in quest'area Calciacinque di un certo livello. Infatti Presidente, ricordo che ci siamo visti l'ultima volta a Sant'Innocenzo, un'intervista sul parco, la presentazione della squadra e sono andato alla cavalcata, dalla Serie D, Serie C2, Serie C1 e siamo arrivati in Serie B. I traguardi sono sempre quelli di arrivare in Serie A, il pubblico lo permette. Una domanda sul nome, CMB, Comprensorio Medio Basento. Ci puoi spiegare? Certo, certo. Tutto nasce da un'idea di Gianni Malvigni, era praticamente all'epoca il nostro allenatore in Serie C2 e parlando fra di noi mi disse, guarda Rocco, secondo me bisognerebbe cercare di costruire qualcosa a livello comprensoriale, mettendo da parte i campanilismi e naturalmente io ho condiviso subito questa idea. All'inizio non è stato semplice, perché anche quando siamo arrivati a Grassano non è che ci hanno proprio accolti benissimo, comunque eravamo calciano, sempre i soliti discorsi. Un po' di campanilismo sempre, sempre. Poi sinceramente pian piano, pian piano, pian piano, la squadra costruita per vincere, vinse 22 partite consecutive, quindi i risultati aiutano, aiutano molto, aiutano molto e sinceramente ora siamo non soddisfatti di più di essere soddisfatti. Però ripeto, il nome nasce da Gianni e da discorsi fatti con Rocco Scarcella, con me, insomma, coloro i quali hanno costruito questo CNB. Infatti noi vediamo ogni sabato, vi seguiamo sul web, tanti grassanesi e tanti lucani da fuori che vi seguono, grazie agli attiviti, al servizio che loro fanno e anche grazie al lavoro che c'è dietro. Una società organizzata che nei minimi dettagli cura tutto, dalla squadra al marketing gratuito. Quindi complimenti, Presidente, in bocca al lupo per la stagione. Si dice grazie e quindi crepi non si dice più. Sempre dalla casa del CNB, dopo aver intervistato il patrono Rocco Letto, siamo con due figure simbolo della squadra. Il capitano, Marcio Antonio Zancanaro e il portiere numero uno, Michel Weber. Partiamo dal capitano. Da dove vieni, Marcio, raccontaci un po' di te. Ma io mi chiamo Marcio Antonio Zancanaro, ho 37 anni, sono brasiliano, sono in Italia da 99-2000, ho girato un po' dappertutto d'Italia. Sono a 17 stagione qua, è il mio secondo anno a Grazano. E niente, sono questi che conoscete in campo. Michel, invece tu? Io sono Miguel Weber, ho 29 anni, pure io sono brasiliano, dal sud di Brasile. Sono in Italia dal 2005. Come Zancanaro ho già girato un po' dappertutto in Italia e dalle mie stagioni sono qua a Grazano. Partiamo da te, Michel. Quando sei arrivato a settembre abbiamo visto subito il tuo palmarès, molto ricco di trofei. Cosa ti ha spinto a venire a Grazano e cosa ti piace di più di Grazano? Allora, io ho conosciuto la società e la squadra, tranne Zancanaro, che lo conosco da anni. Mi ha parlato molto bene della società, del paese. Quindi alla fine stagione è capitato di conoscere il presidente Auleta e subito abbiamo trovato un accordo. Poi il palmarès è quello che è, sono anni di lavoro, sodo, provando sempre a fare il meglio e sono riuscito a vincere, ad avere delle belle soddisfazioni qua in Italia. Cosa facciamo arrivare in Serie A? Quello è l'obiettivo, quello che lavoriamo ogni giorno per quello. Sappiamo che non sarà facile, non sta sendo facile, ma il nostro obiettivo è arrivare in Serie A2 e speriamo che alla fine stagione di riuscire a portare il paese e la società nella Serie A2. Capitano, invece tu sei arrivato a dicembre, se non sbaglio, dello scorso anno. Sei una delle figure simbolo di questo CMB. Cosa ti piace di più di Grassano e descrivici un po' il nostro paese. Ma io prima di venire a giocare a Grassano ho avuto l'opportunità di conoscere il paese, di conoscere la città, ho conosciuto la società, conoscevo alcuni giocatori. Sono venuto a fare un po' di allenamenti e mi sono abituato, mi sono trovato bene dal primo giorno, mi hanno accolto a braccia aperte e questo mi ha spinto a venire a Grassano. Poi in campo cerco sempre di dare il massimo, il migliore di me stesso, con grinta, con determinazione, i piedi sono quelli che sono, alla fine non è che uno può cambiare qualcosa, però con grinta e determinazione mi sono fatto rispettare, conoscere e dimostrare quello che posso dare. Abbiamo parlato prima con il Presidente, il palazzetto è sempre pieno ogni partita, il pubblico è contento, viene congiù da qui a guardare le partite. Cosa possiamo dire ai nostri tifosi? Anzitutto devo ringraziare i tifosi perché non ci lasciano, non ci mollano in qualsiasi momento, in difficoltà, sono sempre al nostro fianco, sempre cantando, urlando e spingendoci, aiutandoci per raggiungere le vittorie e quindi, come ho detto prima, dobbiamo ringraziarli, noi cerchiamo di dare il massimo di uno di noi in allenamenti per arrivare preparati e cercare di vincere le partite e colmare questa ragione con il nostro obiettivo più grande che è la promozione. Miguel, torno a tutti te, siete tra i primi in classifica, tra le prime posizioni, sabato prossimo una partita importante, come la state affrontando, come vi state preparando? Allora, sabato è una partita importante perché è dopo la sosta natalizia e quindi è una partita contro una squadra molto pericolosa che abbiamo già affrontato nell'andata, abbiamo sofferto per vincere a casa loro e quindi ci si aspetta una partita molto difficile. Abbiamo bisogno del nostro pubblico che dà una mano grossa sempre nelle partite casalinghe e speriamo di vincere, che è quello che stiamo lavorando per quello ogni giorno e quindi sappiamo delle difficoltà ma dobbiamo vincere le partite a casa, dobbiamo vincere per forza. Capitano, dal scorso anno la squadra è cambiata quasi del tutto, sono rimasti due o tre innesti nuovi, com'è il rapporto tra dei compagni di scuola? Ma il rapporto, anche se la squadra ha cambiato tantissimo, il rapporto è buonissimo, sono giocatori, alcuni già hanno giocato insieme nel passato, altri li stiamo conoscendo qua, però non sono tutte brave persone, dei buoni giocatori, abbiamo messo un po' più di tempo magari per amalgamare bene il gruppo, non il gruppo ma più il gioco e quindi adesso è un momento che ci siamo tirati fuori da una situazione che era difficile, con i risultati, con tanto sacrificio, con tanto lavoro e come ben detto Miguel, il sabato sarà una partita difficile, complicata, viene dopo della sosta natalizia, capodanno, sono quelle partite con tanti insidi che magari uno ha lavorato di meno, si è rilassato un po' di più e in questo caso si può sentire, sì, però noi giochiamo a casa, davanti al nostro pubblico, abbiamo l'obbligo di vincere questa partita per dare seguito, muovere la classifica e noi non possiamo sbagliare, abbiamo un obiettivo che è più grande di tutti noi, del singolo, della persona individuale e possiamo solo che con il gruppo cercare di vincere le partite per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo visto abbandonare il campo in una delle ultime partite, come ha avuto l'infortunio e quando tornerà in campo? Il mio infortunio segue il trattamento, segue la fisioterapia, il gap è per meno 35-40 giorni, cerchiamo di lavorare anche con la fisioterapia doppia seduta di qua e là per vedere se riusciamo a togliere un po' di giorni di questo infortunio. Sei un portiere con delle caratteristiche un po' particolari, ti piace tantissimo tirare in porta e segnare, hai realizzato tantissime reti già quest'anno, è la prima stagione, da cosa nasce questo feeling con il gol? Allora, io da giovane già mi piaceva tanto giocare con i piedi, andare fuori, provare a fare il gol e da quando è venuto fuori questa regola del calcio a 5 ho sempre giocato con i piedi, tutti i miei allenatori hanno sempre provato a usarmi come quinto di movimento e niente, ho un buon tiro, un buon passaggio, cerco sempre di giocare per la squadra prima di tutto, non cerco di fare il gol, però se c'è la possibilità, il tiro volentieri lo faccio, però non è una cosa che ho fissato in testa, provo sempre ad aiutare la squadra, poi se viene fuori qualche gol mi fa tanto piacere. Benissimo, noi ringraziamo il portiere del CMB e il capitano del CMB, quantità guarigione per il capitano, e ci vediamo alla prossima partita in campo sabato. Grazie a voi e speriamo tutti quanti sabato a Palassetto per spingere la squadra a questa vittoria. Alle nostre spalle l'allenamento quotidiano del CMB è terminato, ai microfoni di Vox Populi abbiamo il mister del CMB Fausto Scarpitti, che lo salutiamo. Buonasera. Mister, sei arrivato da poco a Grassano, qualche mese, le prime impressioni sul paese? Sono due mesi che sono qui, quasi due mesi, le impressioni sul paese sono sicuramente positive, al di là del paese piacevole da vivere anche tutti i giorni, che sicuramente è stata una delle prime cose che ho notato. Parlerei più che altro dell'ambiente, delle persone che ho incontrato, dell'affetto che finora ho ricevuto da tutti, anche passeggiando in mezzo alla strada, quindi è un po' tutto che mi è piaciuto di Grassano finora. Spero che continui in questa maniera, perché è un affetto che mi sta dando grossa parte della popolazione, indipendente dal fatto della squadra, dai risultati della squadra, è proprio la tipica accoglienza di noi del subito. Infatti mister, da Isernia se non sbaglio. L'anno scorso avete allenato l'Isernia portandoli in Serie A, quest'anno ce la facciamo. La speranza mia, ma penso che soprattutto la società che mi ha chiamato è che si possa ripetere quella cavalcata che abbiamo fatto con l'Isernia. Sicuramente ci sono delle difficoltà maggiori, innanzitutto il fatto di essere entrato in corsa mi ha posto di fronte a una situazione di fatto che già c'era, che però non era particolarmente grave, alla fine la distanza dal primo posto non era esagerata. Diciamo che siamo, credo, riusciti a dare una quadratura a questa squadra, che è la cosa che più di tutte voleva anche la società. Adesso stiamo cercando di riagganciare la prima della classe e soprattutto di non perdere terreno, perché poi rispetto anche al girone fatto l'anno scorso dal CMB e da Meicon Lisernia, questo è un girone più complicato sia per le distanze, le trasferte, gli ambienti e sia per il valore stesso delle squadre che obiettivamente è superiore. In particolare ci sono quelle 4-5 squadre che sono pari a noi come valore e sono quelle che ci contenteranno fino alla fine la vittoria del campionato. Minister, facciamo un po' di focus sulla squadra. Avete appena finito l'allenamento, allenamento dopo la pausa della sosta invernale, come si sente la squadra? La squadra a livello di forma sta abbastanza bene, obiettivamente si tratta di un gruppo di professionisti, quindi non c'era da temere i bagordi delle feste natalizie, assolutamente. Diciamo che più che altro stiamo cercando di ritrovare una condizione mentale adeguata al campionato, cioè dobbiamo scrollarci di dosso le festività e la pausa in sé e poi stiamo cercando di recuperare gli infortunati, chi aveva qualche acciacco, chi aveva qualche problema, insomma piano piano cerchiamo di tornare a un numero congruo di giocatori, tolto il capitano Zancanaro che penso ne avrà almeno per un'altra paia di settimane. Infatti abbiamo appena intervistato il capitano con il portiere e abbiamo visto anche nuovi innesti a dicembre, sono arrivate nuove pedine per la squadra. Sì, è arrivata una pedina non nuovissima come Alessio Trovato che è già una vecchia conoscenza di Grassano, avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche, di un mancino ed è stato semplice andare a puntare e investire su un ragazzo che era già conosciuto sia dall'ambiente che da buona parte della squadra. E poi abbiamo inserito Francesco Mancini che è un pivot, un under sostanzialmente perché è un classe 96, un pivot mancino con a nostro parere ottime prospettive che però deve crescere velocemente perché abbiamo bisogno di un giocatore che ci dia una mano e non di un giocatore in prospettiva. Ci serve adesso, lui sta lavorando per questo, la squadra lo sta aiutando molto quindi speriamo che ci possa dare una mano prima possibile. E infatti a proposito dei giovani stiamo vedendo che il CMB sta puntando molto sul settore giovanile, quindi sui giovani, su crescere dal punto di vista fisico ma anche come squadra i talenti locali. Sì, diciamo che la società CMB sta facendo secondo me un lavoro egregio sul discorso giovanile per considerare che al primo anno di attività abbia già tutte le categorie o quasi impegnate, un bel numero di ragazzi con istruttori qualificati che stanno lavorando molto bene, io ho la possibilità spesso di seguire il lavoro dei miei colleghi delle giovanili e sono sinceramente soddisfatto di quello che vedo. E anche in prima squadra con l'Under 19 stiamo approfittando adesso anche della sosta natalizia, stiamo cominciando ad inserire in prima squadra qualche ragazzo in più perché vogliamo dare una prospettiva proprio alla società stessa perché non si può pensare di ricorrere sempre e solo a gente che viene da fuori, che siano stranieri, oriundi o semplicemente italiani che vengono in altre zone, quelli ci vogliono perché sono loro stessi che aiutano a crescere i locali, però ci vuole una base locale importante e obiettivamente una società giovane come il CMB non può averla di già, se la deve creare lo sta facendo con la scuola calcio più in prospettiva. Nel breve cerchiamo noi di dare una mano in questo senso. Grazie mille mister. Grazie a voi. Quindi noi diamo appuntamento a tutti i tifosi per il giorno 6, una partita molto importante. Partita importantissima il 6, sì. Ci vediamo tutti allo stadio. Ok. Grazie a tutti.